Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di pesca a spinning e mosca ai laghi golia dunque mi raccomando ragazzi quello che vedrete nel video di oggi sarà veramente veramente particolare non vi faccio spoiler assolutamente se questo video supera i 100 like lunedì prossimo farò uscire un video a tra l'utaria dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, non evitevi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti dunque direi via con il video ciao 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 che lancia bello 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 bel pesce bel pesce bel pesce guardate con la mia spirit qui bel pesce bel pescione ok sul jackbait seica testa rossa bianco rosso non può deludere bella trota bella trota vi ricordo che qua si pesca solo con ami singoli senza ardiglione sto pescando con un finale dello 025 anche per i grossi bus e gli striped soprattutto questo approccio era dedicato a loro ok ok guardate che bella trota primo pesce e neanche male direi eccola qua aspettate la teniamo in acqua bel pesce sarà sui 2-3 kg ma non vuole star ferma ok eccola qui vediamo non voglio farla cadere eccola la chiave ecola ecola copicare in Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dio, impressionante. Stenditi tutta la coda in acqua. Scusate. Ok. 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 Grazie. Te la stendi tu, fa lì. Sì, ma stanno anche qua sotto. Ok. 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 Oh, calma. Vitellino, sì. Dai, vieni. Ma sono anche abbastanza sotto. Ne avevo presa un'altra. No, era un bianco. No, si è attaccata adesso, si è appena slamata. Ah, ma se... Eh, non so. Però è venuta su solo adesso. Vieni là dietro questa. Perché questa è... Dai, vieni in su. Eh, sì, è rotto. Eccola qua. Era presa perfetta al lato della bocca, eh. Ma penso che si sia attaccata proprio adesso sotto. Allora, è venuta vicino a questa. Ha visto la mosca ed è arrivata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. meisten него alla insieme guarda in personale ganglata. Grazie a tutti.